Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo tornati oggi per parlare delle prime partite di Champions League che si sono giocate ieri 21 novembre 2017 tra le quali anche il Napoli che ha battuto lo Shakhtar 3-0, parliamo prima delle altre però alle 18 si è giocato Spartak Mosca Maribor avevo consigliato l'1 sia per la schiena sia per l'1 x2, Spartak Mosca che invece si è fatta raggiungere al 92esimo peccato perché poteva dar filo da torce al Sevilla che come vedremo ha pareggiato in casa contro il Liverpool anche se è ancora in gioco per il secondo posto nel girone e mal che vada, sempre il secondo Besiktas, Porto, avevo consigliato l'x e il gol, entrambe prese, il gol preso a fine primo tempo già sull'1 a 1 e poi finita la partita sull'1 a 1 preso anche l'x, avevo detto anche il risultato esatto 1 a 1 perché sono due scale che segnano, poi smettono, rallentano, fermano la partita Besiktas invece essendo in casa è riuscita a pareggiare i conti e si è entrata in una situazione di stallo alle 20.45 Siviglia e Liverpool che appunto hanno pareggiato, 3 a 3 avevo consigliato l'x e il gol anche qui presi entrambi, gol preso nel secondo tempo anche se poteva essere preso prima dato che era sul 3 a 0 il Liverpool e poi al 92esimo è arrivato anche l'x dato dal calcio d'angolo del Siviglia che ha pareggiato i conti Manchester City Feyenoord avevo consigliato l'1 e l'1 più per 2,5 per la schedina non preso l'1 più per 2,5 ma l'1 sì dato che il Manchester City vince grazie a un gol all'89esimo di Sterling contro il Feyenoord che ormai è fuori dalla competizione ed è fuori anche dall'Europa League quindi stagione disastrosa e settima in campionato sta facendo davvero una stagione pessima Napoli Shakhtar Donetsk ne parliamo dopo Monaco Lipsia 4 a 1 per il Lipsia fuori casa era 4 a 1 già a fine primo tempo è finita così avevo consigliato l'1 e l'1x per la schedina nessuno dei due presi è stata una partita abbastanza imprevedibile nessuno avrebbe immaginato che il Monaco che aveva bisogno di una vittoria per far restare vive le speranze per il secondo posto nel girone o almeno per l'Europa League andasse a perdere così Lipsia che ha meritato questa vittoria e probabilmente andrà a prendere il secondo posto nel girone Borussia Dortmund, Tottenham aveva consigliato il 2 e l'x2 per la schedina presi entrambi grazie al 2 a 1 del Tottenham in rimonta Borussia che non aveva iniziato male però poi ha continuato come ha iniziato questo campionato ovvero malissimo ha preso questi due gol e è andata sul doppio svantaggio e non è riuscita a prendere il pareggio che comunque non sarebbe servito poi a così tanto dato che a due punti così come Lapoel-Nicosia non può più arrivare seconda e quindi con Lapoel si farà la differenza reti e per differenza reti sicuramente Lapoel è messa peggio dato che ha perso ieri 6 a 0 contro il Real Madrid avevo consigliato qui il 2 e il 2 piove 1 e mezzo presi entrambi 6 a 0 che è successo quasi tutto negli ultimi 15 minuti è il primo tempo erano sullo 0 a 0 poi hanno fatto 4 a 0 a fine primo tempo e altri 2 nel secondo Real Madrid che nonostante questo non riesce a prendere il primo posto nel girone anche se ci manca ancora una partita dato che il Tottenham ha già il primo posto assicurato con la vittoria di ieri passiamo all'ultima partita ovvero Napoli-Shaktar 3 a 0 per il Napoli avevo consigliato l'1 sia per la schedina sia per l'1x2 avevo previsto che il Napoli sarebbe avrebbe fatto un po' di fatica ma sarebbe comunque riuscito a vincere questa partita che era molto importante era fondamentale perché sì ora si possono fare i calcoli se lo Shakhtar fa punti in casa contro il Manchester City già qualificata come prima allora il Napoli anche se vince con il Feyenoord non abbia di scampo ma questi calcoli prima della vittoria del Napoli per 3 a 0 schiacciante non si sarebbero potuti fare se lo Shakhtar avesse fatto punti a Napoli è stato un bel Napoli insigne che nonostante un dubbio sulla formazione iniziale è riuscito a segnare il 56esimo nel secondo tempo e ha portato il Napoli alla vittoria questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto mettete like bello